E vai, ecco qua, Queen Osaka Rhapsody Vedi? Un pofanettino, eh? Librettino, guarda, 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 molto sexy, guarda, guarda qua, guarda che foto, guarda, Ryan May, eh? Per bene, guarda lì, guarda lì, e poi qui ci sa, due doppi cd, perché sono due date a Osaka, una pomeridiana e una serale, questi vedi afternoon show e questo invece è quello serale, quindi vediamo un po', se si aprono bisogna tagliarli? No, si aprono, guarda, plump, 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 questo lo mettiamo qua, c'ha lobby, ma si apre? No, si apre così, e là là, vedi? Le cassette originali, quando hanno registrato, perché è registrato dal pubblico, questo non è ufficiale, primo cd, 1976, tour di Anita di Opera, quindi, mica scherzi, 29 marzo 1976, e poi c'è il secondo cd, guarda bello, John D con il cappello, come lo vedi, eh? Ha molto sexy anche lui, anche lui, meno male, non direi però, guardalo, guarda, eh, guarda Brian May, eh? Tanta roba, eh? Tanta roba, eh? Anche qui, doppio cd, questo invece mi sa che è aprile, perché è giorno dopo, o due giorni dopo, no, 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 è il 29 marzo, è il solito giorno, ma che cavolo dico, uno di pomeriggio e uno di sera, eh? Quindi, questo ora ce li spariamo, e salutiamo tutti. Ciao, ciao.